Dimitri Deliolanes, corrispondente storico della televisione pubblica greca, la RT, quella che è stata al centro di una clamorosa vicenda di chiusura, autogestione e poi di sgombero definitivo manumilitari, è anche l'autore di Alba Dorata, la Grecia nazista, minaccia l'Europa, un libro che è in questi giorni di Iberia stampato da Fandango e che stiamo presentando qui a Roma, in che modo lo scenario greco è stato mutato o potrebbe essere mutato dall'azione giudiziaria contro Alba Dorata, dalla decapitazione dei vertici? Sicuramente è stato un colpo molto duro, anche se tardivo, è apposto un margine all'attività criminale di questo gruppo che aveva imperversato per tutto l'anno che è seguito alle elezioni del 2012 che ha segnato l'ingresso di Alba Dorata dentro il Parlamento. Adesso si tratta di vedere politicamente se è in grado, diciamo così, la destra democratica di reggere l'influenza di Alba Dorata e anche di settori di nuova democrazia che invece vorrebbero uno sbandamento a destra del partito creando seri problemi, diciamo così, e aggravando le minacce verso la democrazia che questo gruppo rappresenta. Sembra che non sia una conversione antifascista molto genuina quella dei partiti di governo, in particolare di nuova democrazia? È un po' complessa la cosa, no, il nuova democrazia è sicuramente un partito antifascista, è il partito che era al governo nel 1967 quando i coloneri hanno fatto il colpo di Stato, i suoi esponenti hanno in tutte le maniere condannato il governo dittatoriale, no, il nuova democrazia è sicuramente un partito antifascista. Il problema è il premier Antonis Samaras e il suo gruppo di collaboratori che vengono spesso dall'estrema destra e da formazioni ultranazionaliste e che più volte pubblicamente hanno sollecitato un dialogo, diciamo così, con la parte serie di Alba Dorata, di guidarla un pochettino verso la democrazia, parlando di opposti estremismi oppure dicendo che il nemico vero della democrazia non viene da destra, da Alba Dorata, ma da sinistra, la sinistra radicale di Sirisa. Loro sono però piuttosto isolati all'interno di una democrazia, per questo dico che bisogna vedere un pochettino come sarà gestita la cosa. Ecco, questa storia di opposti estremisti e estremismi in Italia è un refrain che siamo abituati a sentire e siamo rimasti abbastanza sorpresi che di fronte all'efferata ondata di violenza condotta da Alba Dorata ci sia stata anche in Grecia una ripresa in grande stile di questa teoria, cosa che sta succedendo anche adesso dopo il duplice omicidio dei militanti di Alba Dorata. Hai perfettamente ragione, se in Italia dove fino al 74 era in auge la teoria degli opposti estremismi ti puoi immaginare in Grecia dove non è stata in auge mai, per cui è completamente tradotta dall'italiano la teoria. Sicuramente l'omicidio di due militanti di Alba Dorata fuori dalla loro sede il primo novembre sicuramente è un'azione che rafforza questo tipo di teoria e che sicuramente aiuta Alba Dorata a uscire dall'isolamento in cui era arrivata con l'omicidio di Paolo Sfissas. Per questo ci sono forti sospetti che ci sia dietro una manipolazione, anche se l'ha fatto qualche gruppo terroristico di estrema sinistra, che ci sia comunque una manipolazione. Io ho una mia teoria su rispetto a chi potrebbe essere, da quale settore dell'estrema sinistra potrebbero venire, è troppo lunga però per accortartela. E questa probabilmente ce la dirai dopo nella presentazione che faremo a circolo fra alcuni minuti così imparano quelli che non sono venuti. Invece tornando al tuo libro, questo libro è particolarmente interessante perché non soltanto intreccia la fotografia della situazione sociale greca e dei suoi riflessi elettorali, ma lega tutto questo con le radici profonde che ha Alba Dorata con la stagione dei colonnelli e con un nazionalismo che in Grecia è sempre stato abbastanza vivace indipendentemente da quale sigla in quel momento lo interpretasse. La cosa che però credo sia decisamente degna di nota è il fatto che a differenza di altri reportaggi giornalistici tu riesci anche a dire quale potrebbe essere l'antidoto, cioè come si potrebbe fermare Alba Dorata? Come si parla un nazista? Questo è l'ultimo capitolo del libro ed è veramente il problema dei problemi, la questione che tutti quanti ci poniamo in Grecia ma credo anche in Europa, visti i risultati in Francia, in Austria, in altri paesi dell'estrema destra. Quindi sicuramente sparare ai militanti di Alba Dorata fuori dalle loro sezioni non è la risposta giusta. Sicuramente seguire la loro indicazione di street fighting, lo chiamano loro, di scontri per le strade, addirittura di per le strade, sicuramente non è una buona strada e neanche la ricetta della guerra civile strisciante che c'è stata in Italia negli anni 70 è una strada che le forze antifasciste possono seguire. Io credo che la risposta ad Alba Dorata viene attraverso la lotta contro le forze finanziarie che stanno imponendo questo terribile calvario che sta attraversando la Grecia attraverso la cosiddetta politica di austerità. Se c'è un movimento popolare antifascista, autentico, democratico che riesce a far uscire la Grecia da questo pantano in cui le forze finanziarie internazionali l'hanno gettata, penso che sarà la migliore risposta da dare a questi nazisti, a questi razzisti antisemiti eccetera. Dimitri De Leonanes, autore di Alba Dorata, la Grecia nazista minaccia l'Europa.